ragazzi ciao a tutti eh un'altra puntata eh di processo Prisma plus valenze bilanci e chi più ne ha più ne metta vi ricordo per chi volesse sostenere il canale che lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina quindi dalla documentazione dalle deposizioni perché deporre il falso equivale ad un reato nessuno di questi professionisti ha ha deposto in maniera falsa perché non sono pazzi ricordo che si dimette un CDA di una squadra votata in borsa quindi già questo ti fa pensare cosa cosa abbiamo capito finora abbiamo capito che la Deloitte pagata profumatamente dalla Juventus gli dice fermo questo bilancio dove vuoi andare a loro ma Agnelli spinge perché altrimenti non può iscriversi al campionato questo dicono gli atti processuali questo diranno gli articoli del colliore della sera e tanti altri giornali quindi la cosa è molto ma molto grave e alla signora alla dottoressa Marilungo non venivano mostrate le carte questo lo dichiara lei davanti al PM la dottoressa Marilungo dichiara che Agnelli la voleva costringere ad accettare il bilancio altrimenti la Juve non poteva iscriversi al campionato e non lo dice Giusemo lo dicono le carte atti processuali deposizioni articoli di giornali un altro cavallo di battaglia eh eh del caprone perché avete ragione che chiamarlo capra e offendere un bellissimo animale un altro cavallo di battaglia del caprone e i suoi tre seguaci è quello che Giulini ha dei ha delle azioni dell'Inter ma eh perché sto leggendo cosa scrivono i suoi seguaci io gli direi a queste persone invece di perdere tempo a dire stupitaggini gli consiglierei di studiare magari frequentando anche qualche corso sedale perché fa sempre comodo perché Giulini nell'Inter ha una partecipazione infiniti cioè Giulini ha lo zero per cento ed ha una partecipazione infinitesimale vai sul vocabolario e cerca questa parola nel capitale sociale dell'Inter il divietro caprone te e quei due scoppiati il divieto riguarda le situazioni che possano determinare un controllo quindi ci spieghi caprone ignorante come fa Giulini con uno zero per cento ad avere un controllo sull'Inter che ha più del novanta per cento quindi anche questa cosa qui te l'ho polverizzata capra capra il signor lombardo custodiva la documentazione occultata relativa agli accordi per acquisto giocatori con altre società quindi gli articoli cosa dicono dei giornali del signor lombardo e andiamo subito a riepilogare visto che loro erano tutto a posto Juve l'ex lombardo udinesi ad atalanta facevano da banca articolo di calcio e finanza spuntano nuove dichiarazioni rese al pm nell'ambito dell'indagine sui conti della juventus questa volta riguardano maurizio lombardo per nove anni segretario generale del club bianconero udinesi ad atalanta facevano da banca alla juve poi dopo sempre signor lombardo nel racconto davanti al pm c'è pure il modo in cui la juventus gestiva i rapporti con le altre società durante il mercato lombardo cosa dice al pm attenzione una roba gravissima udinese ti ha fatto un po' di banca ci ha permesso di fare plus valenza immettendo anche la clausola sulla decadenza dalla facoltà di acquisto ricorda lombardo al pm quando i magistrati gli chiedono della cessione e del riacquisto di rolando mandragora vi ricordate altri accordi non depositati sarebbero invece quelli con l'atalanta un'altra banca per la juventus ci fu anche la manovra stimenti se vi ricordate la juventus praticamente eh cosa fa il ventotto marzo scoppia il covid se non sbaglio ventotto ventinove marzo la juventus lo stesso giorno fa una dichiarazione fa un comunicato dicendo che i propri giocatori hanno accettato eh hanno rinunciato a quattro mensilità ma non era vero perché i giocatori da quello che dicono le carte processuale e da quello che dicono eh tanti ex giuventini ai pm i giocatori avevano rinunciato ad una sola mensilità non a quattro come aveva dichiarato la juventus quindi la juventus aveva dichiarato il falso secondo le carte processuali gli articoli di giornale non secondo giuse quindi avevano rinunciato alla mensilità di marzo aprile maggio e giugno ma avevano rinunciato solo in 2020 ma avevano rinunciato solo alla mensilità di marzo quindi eh la juventus aveva dichiarato un risparmio di novanta milioni ma non era un risparmio di novanta milioni era un risparmio di ventidue milioni quindi la juventus aveva dichiarato una cosa che non era vera capo 26 novembre 2021 la guardia di finanza perquisisce le sedi della juve a torino ci siamo 26 novembre duemilamentuno finanza sedi della juve secondo il procuratore di torino i calciatori avevano rinunciato solamente ad una mensilità e non a quattro quindi il comunicato secondo il procuratore di torino era falso non lo dico io lo dicono le carte e i articoli di giornale quindi falso e comunicato quindi perché quali sono i reati secondo il procuratore eh di Torino della juventus e lo dicono le carte e articoli di giornali è tutto documentato sono false comunicazioni sociali e quindi falso in bilancio e false comunicazioni di mercato quindi questa è un'altra chicchina perché noi ora con Effenberg e l'avvocato Pier che conoscono la documentazione a me la dita ovviamente faremo le live sul processo Prisma per farvi capire che loro loro in un paese normale secondo me per come la vedo io e posso sbagliare in un altro paese dell'Europa sarebbero stati irradiati mentre come dice la dottoressa Marilungo stava per colare tutto e poi è arrivato Gravina e li ha salvati perché questa è la verità ora loro fanno finta di avercela con Gravina loro fanno finta di avercela con colui che li ha salvati dal baratro perché se loro esistono ancora devono ringraziare proprio Gravina attenzione però chi è che diceva gli organi di controllo come posso supercazzolarli sempre loro per quello Moncalvo dice attenzione perché se parla Coviso scoppia tutto e a questo punto io ti dico come c'è bisogna subito togliere Gravina come vuole fare il ministro dello sport parlano di commissariamento no commissariare subito Gravina intervenga subito lo Stato e facessero parlare tutti quelli della Coviso e poi guardiamo guardiamo chi sono quegli sporchi e chi sono quelli puliti non ci sono problemi giochiamo tutti a carte scoperte interroghiamo i quelli della Coviso e ci dicessero soprattutto in base alle intercettazioni cosa si ricevono i dirigenti della Juve con gli organi di controllo ciao Inter Gravina